Le immagini della devastazione dell'asilo di Camuccia fecero rabbrividire coloro che quella mattina per primi entrarono all'interno della struttura. Pensare poi che tutto questo fosse per mano di minorenni fece ancora più preoccupare. L'unico maggiorenne accusato di far parte di questa baby gang era un ventenne di origini marocchine che invece ha dimostrato la sua estranetà ai fatti ed è stato prosciolto. Qualcuno lo aveva notato nei pressi della scuola e così era stato individuato come il boss che nell'aprile del 2018 aveva dato il via a questa scorribanda. Furono azionati gli estintori nelle aule, versato latte e pomodoro sulle pareti, distrutti gli arredi e il materiale didattico. Il giovane però con una memoria depositata dall'avvocato difensore Francesco Valli ha dimostrato che quel giorno, quando un testimone sosteneva di averlo visto, non poteva trovarsi lì perché era convalescente dopo un intervento al menisco, deambulava male con tutore e stampelle. Il GIP del Tribunale di Arezzo Angela Avila ne ha preso atto e ha archiviato la sua posizione.